guarda la macchina nera, non è questa cocco rullo, che stai in moto la macchina? questo e quel lato? e i isomini ai voli, noi... è dappi che tu sei è dappi che tu stai facendo ma ti, cosa facendo? ma che io guardi a petto? ma come fai? ma vado a raccogliare ma non lo so ma non lo so ma non lo so ma non lo so Grazie a tutti.